terzo modello della rinnovata linea premium ds dopo la compatta ds3 crossover ds4 la più spaziosa ds5 viene offerta con motorizzazione diesel oppure in versione ibrida che monta due elettrici alle ruote posteriori in aggiunta al motore termico principale creando così anche la possibilità della trazione integrale per una potenza complessiva di 200 cavalli l'allestimento sport chic immediatamente sotto la versione più esclusiva è comunque già molto ricco ed è quello che abbiamo provato al primo impatto la ds5 conferma lo stile innovativo e coraggioso che accomuna tutta la gamma ds linee tese abbinate a forme morbide esprimono eleganza e aggressività con spigoli e accenti cromati che non permettono di classificarla con uno solo dei due aggettivi come del resto evidenzia il nome sport chic la parte certamente più interessante però è nella soluzione adottata per i motori con una tecnologia ibrida che citroen ha battezzato hybrid 4 che abbina ad un diesel 2000 posizionato sotto il cofano una coppia di motori elettrici collocati su ciascuna delle due ruote posteriori i 200 cavalli sono frutto della combinazione dei 163 forniti dal motore termico e i 37 della coppia di elettrici tre le diverse modalità di guida con una quarta funzione auto che ne permette la gestione in automatico attraverso l'elettronica di bordo la modalità zev sfrutta soprattutto la propulsione elettrica velocità massima 60 orari e autonomia circa 4 km in sport invece elettrico e diesel lavorano insieme per ottenere tutti i 200 cavalli mentre con la soluzione 4 vd l'obiettivo è di approfittare della trazione integrale per ottimizzare la mobilità su terreni a basso coefficiente di aderenza gli interni sono confortevoli e molto curati nella realizzazione come nella scelta dei materiali ma anche il design è molto creativo ed originale con dettagli che dimostrano chiaramente lo spirito chic della ds5 i volumi interni sono ampi soprattutto per i quattro occupanti delle poltrone ma un quinto passeggero trova un suo spazio per viaggi brevi l'allestimento sport chic presenta di serie numerose ed interessanti opzioni come il tito cockpit diviso in tre sezioni regolabili autonomamente il color head up display che proietta i dati di guida sul vetrino d'asparente e sedili anteriori elettrici riscaldabili con funzione di massaggio i prezzi partono dai 29.300 euro della versione benzina due ruote motrici per arrivare ai 43.750 della hybrid 4 sport chic lussuosa e tecnologica